Take another minute, tell me what you're thinking. Take another moment, tell me what you're saying. How do you know? How do you know? How do you know? Your dreams won't be coming through to the reality. Mercoledì 23 novembre in diretta alle ore 21.01. Buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Passione Bianca Azzurra. Il nostro format dedicato alla Virtus Franca Villa. Finalmente ci ritroviamo dopo una vittoria dei Bianca Azzurri contro il Taranto per 3-0. Ma è già la mente proiettata sul prossimo derby, quello contro il Monopoli di domenica. Di tutto questo ne parleremo nel corso della serata. Vado prima a presentare però i miei ospiti a partire da Federico Mastropietro. Buonasera. Buonasera Denis. E buonasera anche ad Alessandro Zanzico. Buonasera a te. Anche questa settimana si è stato convocato. Ormai inamovibile. Fra poco capitano quindi. Titolare fisso. Allora io partirei Federico da questa vittoria nel derby molto importante. Vedendo però alcune foto scattate da Francesco Miglietta per il club. Questa foto dell'abbraccio tra Caporale e Donatiello ma insomma del gruppo anche al vicepresidente Bianca Azzurro. Possiamo dire che un pochino l'immagine di questo momento è una vittoria dedicata ai francavillesi, no? Sì, assolutamente. Ci tenevamo tantissimo a regalare questa vittoria a tutti i tifosi. Al vicepresidente Tonino Donatiello che è un'icona, un'istituzione a Francavilla. Ha dato tutta la sua vita in questa società e si merita queste vittorie e tutte quelle che verranno. Che sensazione vi dà questa vittoria per 3-0? Non è stata una partita semplicissima, no? Poi come il risultato fa credere. Però poi la Virtus l'ha meritata con un grande secondo tempo, con una grande prestazione. Il gol di Solcia ha messo un pochino la partita in discesa. Ti chiedo a questo punto che sensazioni vi dà questo 3-0? Ci aspettavamo sicuramente una partita tosta, no? C'era da lottare fino alla fine. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a tenere botta quando magari il Taranto stava costruendo qualcosa in più. E questo ci ha permesso poi di andare a chiudere la partita negli ultimi minuti. Alessandro, chiedo anche a te l'importanza di questi 3 punti, una bella boccata di ossigeno, in vista anche di un ciclo abbastanza terribile. 3 punti che sicuramente servivano come il pane, Dennis. 3 punti pesantissimi, importantissimi. Non soltanto perché sono semplicemente arrivati, ma anche per come sono arrivati. Perché appunto abbiamo visto una Virtus che non ha sovrastato il Taranto, a discapito di quanto possa sembrare dal risultato finale. Un Taranto che ci ha provato davvero con le unghie e con i denti, ma forse è proprio questo il vanto della Virtus. Che nonostante ci sia stato dinanzi a sé un Taranto gladiatorio che appunto ha provato a farsi valere fondamentalmente fino al rigore di Patierna. In poi la Virtus ha mantenuto e ha fatto esattamente quelle cose che fino ad ora non erano riuscite. Cioè mantenere una certa solidità difensiva, anche andando a rispettare quella che è l'identità o come direbbe Calabro il DNA della squadra, della società e dello stesso allenatore. Per poi andare a sfruttare al meglio quelle poche palle goal che appunto si sono andate a creare. Parlo di quelle palle goal proprio nitide perché abbiamo assistito ad una sorta di paradosso nelle ultime settimane. Ci sono state partite in cui la Virtus ha creato tanto, subito poco, ma perso pareggiato e partite come quella lì di domenica in cui sebbene si sia subito qualche tiro di troppo e sebbene non si sia arrivati poi sotto porta con grandissima lucidità, comunque le occasioni sono state poi concretizzate al meglio. Federico, tu che sei uno dei veterani del gruppo, voglio chiederti quanto avete sofferto per questo periodo in cui la vittoria non arrivava. Forse aumentavano anche le pressioni soprattutto sui più giovani, sugli ultimi arrivati. È una svolta forse. Sì, ma la sofferenza del gruppo è stata incredibile. In questo mese in cui non abbiamo trovato la vittoria, purtroppo noi nel calcio si sa che ci sono certi momenti in cui ti va tutto bene, altri in cui invece c'è da lottare, c'è da uscirsene con le unghie e con i denti da certe situazioni. Noi siamo stati bravi perché abbiamo voluto da squadra uscire da questo periodo negativo, diciamo, e lo volevamo a tutti i costi anche per dare una gioia ai tifosi che sono lì e ci sostengono ogni domenica, ma a tutta la società e a noi stessi anche. E ci è arrivato un messaggio sul nostro numero Whatsapp da parte di un tifoso che dice tutti a Monopoli bisogna vincere, crediamoci. Poi nel corso della seconda parte anche della nostra trasmissione interagiremo con Flavio Insalata che ci farà il punto sul Monopoli e parleremo abbondantemente anche dei bianco-verdi. Federico, può essere un punto di ripartenza a questo punto la nuova veste tattica della Virtus Franca Villa che abbiamo visto finalmente, forse direi, con la difesa a quattro? Sì, deve esserlo, ce l'auguriamo. Noi daremo tutto a Monopoli per confermare quello che è stato fatto di buono contro il Taranto. Sappiamo che anche lì ci aspetta una battaglia, ma noi siamo pronti e andremo lì per conquistare tre punti. Alessandro, come hai visto la Virtus con la retroguardia a quattro? Che era un po' qualcosa su cui abbiamo ragionato anche nella scorsa puntata con il collega Renato Rubino e parliamo proprio di Mastropietro che secondo noi sarebbe stata la carta sorpresa di Calabro nello scacchiere tattico al primo minuto e poi insomma ci abbiamo visto giusto. Sì, abbiamo visto molto giusto, poi ci siamo anche un po' soffermati troppo, forse troppo sul reparto offensivo, ci siamo soffermati su questo doppio trequartista, Cisco Mastropietro alle spalle dell'unica punta, tralasciando completamente la possibilità di vedere una difesa a quattro. La difesa a quattro che nel corso delle passate settimane è stata anche un po' driblata da mister Calabro, ci ha fatto intendere in più occasioni che per i giocatori che ha a sua disposizione la difesa a quattro non è proprio l'ideale. E infatti per attuare questo nuovo modulo ha dovuto togliere un calciatore che in teoria è un profilo cardine come quello di Pierno. Appunto, tant'è che in molti alla lettura della distinta abbiamo pensato, ma ci sarà stato qualche problema per lui e per questo motivo è stata messa la difesa a quattro, invece è stato l'esatto opposto. Quindi caporale terzino sinistro con Solcia, che poi tra l'altro ha anche segnato e ha fatto secondo me il gol più importante di giornata, insomma è stata una manovra, una idea che ha sicuramente pagato. Così come ha pagato anche l'idea di mettere due centrocampisti offensivi alle spalle della punta con questo dualismo anche con Cardoselli, che noi credevamo fosse un centrocampista dalle qualità un po' più difensive e invece l'occorrenza spinge come anche lui. Sì, tra le altre cose noi ci aspettavamo forse vedendo la distinta, proprio Mastro Pietro trequartista invece poi ha giocato un pochino più avanti Cardoselli, come mai? Sì, no, io ero diciamo più mezzala, ho giocato più dietro rispetto a Cardoselli, lui ha parecchie, ha soprattutto doti offensive. E pure tu vero? Sì, però comunque non, diciamo, secondo me sono un po' più equilibrato rispetto a lui, anche perché magari si trovava dalla parte sinistra in cui poteva rientrare sul destro e puntare la difesa del Taranto, mentre io giocando a sinistra diciamo sono più equilibrato. Sì, non mi sei rispettato un Cardoselli così, no? Ce l'aspettavamo forse più, tra virgolette, mediano quando è arrivato, no? Non lo so, perché se ci fai caso a Castellammare, quando è uscito Maiorino è entrato lui a fare il trequartista mezza punta e anche nelle dichiarazioni post partita di Calabro, lui stesso ha detto il 4-3-2-1 non è stata una forzatura. Con gli uomini che aveva a disposizione avrei potuto comunque fare 3-5-2 con Pierno e Cardoselli a fare il finto secondo attaccante, la finta mezza punta. Quindi era una sorpresa più per noi che per Calabro, forse è uno di quei centrocampisti un po' più multitasking, ecco diciamo così, anche perché ad oggi la dozzilità va di moda e Federico ne sa qualcosa. E ci arriva un messaggio e poi ci andiamo a vedere gli highlights di Virtus Francavilla Taranto, buonasera a tutti, non capisco perché Mastropietro fin qui abbia giocato così poco può essere l'arma in più per il proseguo del campionato. Io la ribalterei a lui, come domanda. Io la ribalterei a qualcun'altro. No, no, il mister fa le sue scelte, come giusto che sia, io mi limito solo a dare il massimo in allenamento e poi in partita nel caso in cui dovesse esserci occasione. Intervengo anch'io Dennis dicendo che comunque lui è uno di quei profili di massima affidabilità a gara in corso, perché tante volte si fa l'errore di vedere soltanto chi sono gli undici che scendono in campo dal primo minuto, quando in realtà gli altri cinque che subentrano a gara in corso, che subentrano magari nel secondo tempo per dare un cambio a setto che la squadra avversaria non si aspetta o semplicemente un po' di mente fresca e delle gambe fresche che possano sicuramente tornare utili, lì anche diciamo che serve qualcuno che ti possa spezzare la partita e lui queste capacità ce le ha, quindi può anche essere questo uno dei coefficienti. Anche se vedendo l'andamento dello scorso anno stiamo entrando nel periodo di Mastropietro, visto che l'anno scorso Taurino proprio svolto in questo periodo dell'anno. Ci andiamo a vedere le immagini di Francavilla Taranto 3 a 0. Settimo minuto, attacca il Taranto, la Monica, conclusione di destro da parte del centravanti rosso-blu, attenzione allo schema, palla per Tommasini che si gira a Vella, Prodezza con il pallone che è terminato in calcio d'angolo dunque al diciottesimo. Calcio d'angolo che è il primo della serie in casa Francavilla, attenzione il gol di Cardoselli, Malarmitro annulla, annulla per un fallo dello stesso numero 5, batte questo calcio d'angolo Mastra, attenzione perché a Vella non la prende. Inizia in questo istante la ripresa con il Francavilla che batte il primo pallone, invariato invece lo schieramento della Virtus, Francavilla, Cardoselli controlla bene, poco fuoriare poi il destro, e lui a battere corto all'indietro, per il destro, tentato da Guida. Ancora con l'esterno d'attacco della Virtus. Gioco di cambio, Ciscola Fonni, cross in mezzo, impreciso per tutti, fuoriare, recupera Caporale, un contro cross, troppo morbido, respinge male per l'oliva, attenzione, prova a giurarsi Padiarno, palla indietro per Solcia, il destro, e il gran gol di Solcia! All'ottavo della ripresa, Francavilla in vantaggio, palla indietro di Padiarno, per Solcia, il difensore, in pressa dell'Atalanta, un grandissimo destro da 22 metri, Mastro Monaco su Caporale, carica il destro, Avelia respinge, è lontano di Ciscola, riparte per il Francavilla, Slalom tra tre avversari, ancora Ciscola, l'invernale a sinistro, respinge l'oliva con i pugni, che azione Ciscola in Slalom, letteralmente come con l'uscita, tre avversari. Lo scambio con De Maria, la guida adesso ancora, il cross, pallone in aria di rigore, dove c'è Infantino, che la dà dietro, arriva Mazza, stoppa di sinistro, con i pugni, Avelia non è finita, ancora il Lataranto in avanti, conclusione con i piedi, Avelia! Tomasini in aria, da sinistra, Tomasini, fermato però, e poi, attenzione, simulazione, simulazione per Guida, Palla per Tomasini, si deve girare, fischia il pubblico franquevillese, poi a destra, il solito Mastro Monaco, crossa, lontana, Risolo, poi stoppa Formiconi, il tacco per Guida, respinge corto Avelia, rischiando tantissimo. Parla sinistra per Formiconi, c'è che l'ennesimo scatto, recupera Valia però Di Marco, ottima sua gara, Cisco, sempre lui, parte a destra, se c'entra, ancora Cisco, gioco di gambe, Cisco in aria, l'assiste, no, era un tiro in porta! Batte Mazza, pallone sul primo palo, attenzione, pallone che è terminato sul fondo, ancora un brivido. De Maria, Guida, si gira col mancino, palla di poco, oltre l'incrocio. Cisco, che viene avanti in grandi falcate, entra in aria di rigore, poi va alla conclusione, e c'è calcio di rigore per un fallo di mani. Calcio di rigore per il Francavilla, che potrebbe a questo punto nel match chiudere quasi la contesa, siamo nel corso del quarantonesimo. Va Patiarno con il destro, e la rete, all'angolino, l'aveva intuito l'oliva. Francavilla, 2, Taranto, 0. Egnan su di lui, nuovo entrato, forze fresche, e prova a lanciarsi Egnan. Contro bene a Francavilla, va Egnan, sovrappone Arisolo, Egnan, cerca Patiarno, sovrappone invece Macca, assist prova per Egnan, Egnan è solo, dribble il portiere, e c'è il 3-0 per la Vitus Francavilla. Il nuovo entrato, Elimalec, Egnan, gol importantissimo per un calciatore, che troppi mesi è rimasto fuori, per infortunio. Beh, e dobbiamo dire che di spunti questa partita ci sono andati parecchi, anche perché c'è il ritorno di Egnan, Alessandro, che era un po' quello che ci aspettavamo, anche in conferenza stampa con Mr. Calabro, gli abbiamo chiesto più volte, ma quando rientra Egnan, lui ha detto sempre, dipende da lui, speriamo insomma si sia sbloccato adesso. Sì, allora diciamo che il ragazzo ha vissuto un periodo molto lungo, molto complicato, perché lui ha fatto fuoiche e fiamme, nella prima metà della passata stagione, fino a ottobre, se non vado errato, ottobre-novembre, non farmi dire una bugia, però il periodo doveva essere quello. Poi c'è stato l'infortunio, grave, poi il Covid, poi la ricaduta, tutti abbiamo pensato che questa poteva essere la sua stagione, è in ritiro, è arrivato dopo, perché non era al top. Quindi, insomma, diciamo che la squadra l'ho aspettato, penso che gli siano stati tutti molto vicini e credo che quello sia stato il gol più bello, andando al di là del gesto tecnico, perché comunque ha scartato il portiere, in quel caso hai la porta sguarnita, puoi fare quello che vuoi, e quello è un piccolo rischio in più, però gli serviva fare gol, gli serviva fare gol in quella maniera, e mentre guardavamo le immagini sentivo Mastro che diceva che giocatore, che giocatore. Quindi, penso che abbia fatto piacere anche un po' a voi, il fatto che si è tornato al gol, che si è tornato a sorridere. Sì, è un giocatore che ha una qualità incredibile. Purtroppo ha subito più ricadute dall'anno scorso per un infortunio muscolare, però noi sappiamo, conosciamo benissimo le qualità di Eli. Anche perché prima che arrivasse a Francavilla fu bravo Antonazzo, se la parlo a squadre di Serie B, che avevano fatto offerte anche un pochino più importanti, poi il calciatore aveva dato la parola alla Virtus, dopo il fallimento del Chievo-Verona. Federico, era la partita che vi aspettavate? Questa contro il Taranto, bella rognosa, no? Sì, ce l'aspettavamo perché conosciamo il modo di giocare del Taranto, sapevamo anche noi di dover lottare per raggiungere un risultato positivo, la vittoria, che dovevamo ottenere a tutti i costi. Quando vieni da periodi difficili, non si gioca solo un bel calcio, ma bisogna andare oltre, bisogna stringere i denti, lottare, difendere da squadra, attaccare da squadra e noi l'abbiamo fatto. Tra l'altro hai avuto una chance, finalmente dicevamo prima, dal primo minuto. Posso chiederti se la partita contro il Taranto per te ha un sapore speciale? Ormai, visto che sei diventato francavillese d'adozione, insomma, un pochino... È sempre una bella emozione. È un'emozione senza dubbio, sì, perché Taranto è la mia città, quindi è normale che c'è un'emozione diversa rispetto alle altre squadre, però in campo diciamo che non esisteva nessuna città, dovevo solo dare il massimo per il Francavilla. Ecco, Federico, ti ricorda un pochino questa partita, il 3-0 al Bari, dello scorso anno? Per come è arrivata, per il momento, per le tante defezioni che c'erano? Sì, un po' sì, è vero, perché ci mancano parecchi giocatori per infortuni vari, però ecco, la cosa importante secondo me in una squadra è quando, nonostante ci siano questi periodi di difficoltà che vengono anche accentuati da queste piccole cose, infortuni, squalifiche, comunque chi viene chiamato in causa risponde presente. Alessandro, tu hai notato qualcosa, a proposito di defezioni, hai notato qualcosa che prima ne parlavamo nel fuorionda, se ne saranno accorti anche un pochino i tifosi presenti allo stadio? Non lo so, perché era molto presto e c'era pochissima gente allo stadio, ti parlo della fase per riscaldamento in cui ho visto un ragazzone in tuta bianca-azzurra correre e ho detto, beh, ma chi è che sta anticipando il riscaldamento? Ed eramo io. Quindi, quindi, non so, lui non ci dirà nulla ovviamente, però i tempi di recupero forse sono stati anche un po' bruciati, non so se appunto fosse a disposizione, ho visto che comunque era in panchina, non si è scaldato, quindi non credo fosse arruolabile, però, però, aspettiamoci, potenzialmente parlando qualche possibile sorpresa in vista già di monopoli, perché no, magari non dal primo minuto, però all'occorrenza, chissà che non possa già entrare, chissà che non possa aver già bruciato le tappe, perché il suo infortunio era importante, però sappiamo che lui, insomma, è un guerriero. Ovviamente non metteremo in difficoltà Federico chiedendogli cose su altri giocatori, perché altrimenti poi Fabiano Iaia ci viene a crocevino, no, al di là degli scherzi, abbiamo anche una clip sul gol annullato a Cardo Selli, con la regia del buon Fabio Pignatelli, adesso rivediamo le immagini, Alessandro e poi anche a Federico, se vi sembra questo un gol da annullare, ecco lo stiamo rivedendo da un'altra inquadratura, un pochino fatta col cellulare, ecco Federico, c'era da annullare? Vedendolo non sembra, sinceramente, però evidentemente l'arbitro una volta che decide, non si può fare nulla, purtroppo non abbiamo il VAR in C, che tra l'altro speriamo arrivi presto. Sì, perché dalla nostra inquadratura, che è quella dei classici teleschermi tra l'altro, l'episodio poteva sembrare quanto meno dubbio, quanto meno dubbio, anche perché accade con tanti uomini davanti, accade in velocità, quindi non ci siamo presi lì per la responsabilità di dire che il gol fosse regolare, però da questa inquadratura sembra che sia lo stesso Cardo Selli a subire fallo. Anche in maniera abbastanza evidente. L'arbitro poi era davvero l'avvicino, non so cosa abbia potuto vedere di così strano da annullare il gol, e questi sono gli episodi che possono condizionarti, non soltanto una partita, ma perché no anche un'intera stagione, perché se la Virtus per colpa di questo gol non va a vincere questa partita, lì poi si crea un momento molto delicato, perché questa vittoria serviva tanto, non erano tre punti così come altri, diciamocelo chiaramente. Quindi non dare questo gol è davvero una scelta pesante dell'arbitro che vi torno a dire era lì vicino e non so cosa abbia visto, perché questo è un gol regolarissimo, non mi sbilancio mai, ha tolto anche l'assist a lui, quindi per chi ce l'avesse al Fanta Serie C non c'è stato il più uno. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare le parole di Antonio Calabro e poi continuiamo con la nostra analisi del momento Francavilla. Sono contento di quello che è successo stasera, abbiamo vinto una partita sofferta, abbiamo vinto una partita contro una squadra forte, allenata da un grande maestro come Ziorino Capuano, che ci ha messo veramente in difficoltà con una grossa fase difensiva e con delle ripartenze importanti, quindi va dato atto a un maestro, ad un allenatore importante in questa categoria che ovunque va fa sempre bene e mette sempre in condizione le squadre di dare filo da torcere agli avversari, così è successo anche l'anno scorso quando erano in un'altra scopata nel Catanzaro, così è successo anche negli anni precedenti, quindi non è soltanto quest'anno. Sono contento, ripeto, per l'ambiente, per la bocca di ossigeno che prende l'ambiente, di entusiasmo, per la classifica perché tre punti servivano, per me abbiamo cambiato sistema di gioco, non è semplice, quando cambia il sistema di gioco vuol dire che qualcosa andava rivista rispetto a quelle che sono le idee che abbiamo avuto inizio anno, però l'allenatore serve anche a quello a vedere. A proposito, la notizia di questa partita e soprattutto l'immediata vigilia, questa difesa a quattro, il sistema di gioco che insomma viene accantonato, quello storico della Virtus Francavilla che è sbocciato proprio con Calabro una dozzina di anni fa, perché? Ma per me non era la prima volta, a Francavilla non mi era mai successo, a Carpi avevo già proposto più volte, a Francavilla non era mai successo perché non c'è stata mai la necessità, in questo momento c'era necessità, si stavano prendendo troppi gol, ripeto, quello che magari avevamo pensato tutti quanti non si stava confermando, a noi piace una squadra granitica, a noi piace una squadra che gli avversari facciano difficoltà a prendere, a fare gol, invece eravamo un po' delicati, un po' molli, ma non dipendeva da, dipendeva un po' da tutto, quindi vediamo, adesso c'è stata questa boccata di ossigeno che sicuramente è un brodino che fa piacere, contro una squadra, ripeto, ben messa in campo, con la quale non era difficile fare risultato, e quindi adesso noi, io mi riguarderò la partita stasera, domani ancora, e poi valuteremo anche gli errori che abbiamo fatto e dove si può migliorare. Ecco, per finire facciamo la stessa domanda che abbiamo fatto al mister Capuano in merito agli episodi, il gol annullato nel primo tempo alla Virtus e il rigore non concesso al Taranto su guida con cartellino giallo, e poi il rigore concesso alla Virtus. Io parlo per l'averlo visto da 70-80 metri di distanza, quindi a fine primo tempo hanno rivisto l'azione di Cardoselli sul nostro gol e dicono che non c'era veramente niente di male, quindi era un gol valido. Su quello di guida non posso esprimermi perché non l'ho rivisto, quindi quello di Cardoselli, l'episodio, c'è stato modo a fine primo tempo di rivederlo, quello di guida non l'ho rivisto, quindi preferisco non esprimermi. Alessandro, hai iniziato un nuovo campionato per la Virtus? Sì, fondamentalmente sì, perché ti torno a prendere il discorso di prima, se questa partita la perdi lì si mette male, senza far drammi ovviamente, però si mette male a livello morale perché poi hai un calendario proibitivo, adesso vai in casa di un Monopoli che ha famissima di punti, poi hai due big, una delle quali forse è la più forte di questo girone, anche senza forte, in trasferta, poi hai il Picerno che in casa sta facendo benissimo, quindi rischi davvero di arrivare poi al giro di Boa con molti pochi punti, rischi ad arrivare alla fine dell'anno solare con pochi punti rispetto a quelle che erano le ambizioni di inizio stagione, adesso questa vittoria per come è arrivata, perché è arrivata, ti dà una bella boccata d'aria, ti dà una gran bella iniezione di fiducia, anche perché ti è arrivata dopo un cambio modulo, che è importante perché per un allenatore dà delle risposte, ti dà delle garanzie, ti fa capire che appunto tu andando a ritoccare qualcosa, andando a cambiare qualcosina, effettivamente hai riscontro. Lo chiedo anche a te Federico se inizia un nuovo campionato, perché se non vado errato, poco prima dell'inizio della partita con i risultati che ci sono stati nel pomeriggio, la Virtus era a due punti dall'ultimo posto. Inizia un altro campionato, diciamo che dobbiamo essere bravi a capire gli errori che sono stati fatti in queste prime dieci giornate e farne tesoro e diciamo prenderle per migliorare e poterle diciamo portare a nostro favore, in modo da capire gli errori che sono stati fatti e migliorarsi. Torno a fare una domanda che faccio solitamente a chi è alla Virtus da tanto tempo, cioè perché la Virtus fa, e questa è una domanda che ci mandano spesso i nostri telespettatori, perché la Virtus fa fatica fuori casa rispetto a me in casa? Non so se nelle altre ospitate te l'ho già chiesta questa cosa ma c'è un perché secondo te? No, perché perché è un campionato tosto come tutti i campionati e andare fuori casa in altri campi, in altri stadi non è facile ma lo possiamo vedere anche quando vengono gli altri da noi, no? Sì, sì, sì. Purtroppo c'è anche il fattore campo però sicuramente non è una questione di mentalità o di atteggiamento perché comunque anche fuori casa noi abbiamo un solo atteggiamento e un solo modo di giocare quindi non si tratta di questo. La curiosità era più che altro sul terreno di gioco, per dire patite il fatto del passare dal sintetico al naturale oppure no? No, diciamo che queste cose sono secondarie secondo me Ok, ok giusto per per fare chiarezza anche perché è una domanda ripeto che ci mandano tanti telespettatori a breve ci fermiamo per qualche istante pubblicità prima ti chiedo un'altra battuta Federico su Cisco che è un giocatore che è partito lento con Diesel ma adesso sta decollando Cisco ha grandi doti atletiche tecniche secondo me può essere l'arma in più per questa squadra perché punta l'uomo lo supera sempre può essere incisivo in partita Sì, mi ricorda all'inizio mi ricordava sulla fascia Giannotti che faceva quei dribbling però poi si perdeva nell'ultima giocata comunque in fase difensiva calava un po' invece forse schierato lì in attacco anche perché lui è un attaccante è un giocatore più offensivo che ti può dare tantissima qualità negli ultimi metri Alessandro chissà se si è rigreduto Cisco che da noi disse il mio ruolo è proprio esterno di quinta tutta fascia tra l'altro abbiamo provato anche a fornirgli l'assist non è il tuo ruolo però lui è insistito no 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 infatti secondo me lui crede davvero di poter migliorare tanto nel ruolo di quinta centrocampo e fa bene a farlo perché deve soltanto un attimo limare quei compiti difensivi che gli vengono assegnati compiti difensivi che se li vengono completamente tolti lui si diverte come meglio può ed è normale lo vediamo tu hai parlato di una crescita progressiva è partito lento e poi è andato veloce ed è quello che fa in campo lui punta l'avversario e lo salta sempre al massimo può poi sbagliare l'ultimo tocco può tenere la testa troppo bassa e non fare il passaggio nel momento giusto può calciare senza trovare bene lo specchio trovando magari una parata facile del portiere che si aspettava il tiro lì però se dovesse maturare giusto in questa parte di finalizzatura lui le carte in regola per sprintare sulla fascia ce le ha tutte e così come può farlo avanti può farlo all'indietro del resto ci troviamo nell'era della grande duttilità sono tantissimi i calciatori che poi modellano il proprio ruolo in base alle proprie qualità in base alle proprie capacità lui è ancora giovanissimo e può sicuramente farlo assolutamente d'accordo con te allora noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità dopo sentiamo le parole di Capuano le parole di Enian una scheda su un altro singolo che ha fatto benissimo nell'ultima partita e poi Flavio Insalata per farci il punto in casa Monopoli un'altra realtà che non sta attraversando un buon momento tra le altre cose è di qualche ora fa anche una dichiarazione del presidente Rossiello in cui dice siamo delusi dall'andamento del nostro campionato soprattutto nelle ultime partite quindi sarà l'occasione anche per discuterne con Flavio Insalata tra poco Seconda parte di Passione Biancazzura con noi in studio c'è Federico Mastropietro in cui stiamo un pochino chiacchierando dalla partita con il Taranto alla stagione della Virtus Francavilla questo è il momento però di andare ad ascoltare le parole e il commento a caldo del tecnico del Taranto Capuano faccio fatica a commentare 3 a 0 perché chi magari vede il risultato non ha visto la partita però il calcio è questo c'è poco da dire abbiamo perso 3 a 0 poi è normale che a prescindere poi gli episodi rigore non dato a noi rigore dato a loro io ho contato 8 palle e gol una traversa 4 miracoli del portiere quando sembravamo che eravamo lì per fare gol Manetta mi dice che la palla non l'ha toccata l'ha toccata con la spalla però a prescindere tutto voglio dire commentare un 3 a 0 bisogna stare zitti con grande onestà però voglio dire nel vedere la gara che ti va a dire a Stilanzi c'è c'è stata una sola squadra in campo cioè soprattutto dopo il gol loro siamo saliti di solo noi non riuscivano più ad uscire però voglio dire ecco un allenatore dopo un 3 a 0 fa fatica inverosimilmente al contrario perché voglio dire è una partita del genere se uno non l'ha vista questa partita non si può commentare però noi partiamo da da qualche errore fatto perché qualche errore l'abbiamo fatto ci portiamo secondo me è una prestazione molto importante molto molto importante cercheremo di recuperare tutti gli infortunati gli squalificati che avevamo e andiamo avanti cioè è un risultato Gianni che si fa fatica cioè cioè chi non ha visto la partita 3 a 0 cioè che devono hanno fatto un tiro in mezzo in porta poi il rigore però però niente complimenti a loro ecco allora parliamo degli episodi nel primo tempo la Virtus si ha protestato per un gol anullato e nel secondo tempo c'era un presunto fallo su guida presunto oramai non ci faccio più caso cioè non si dà rigore su guida e poi rigore a loro non lo so onestamente sul rigore di Manetta io ero distante Manetta mi assicura che non l'ha presa però io non posso dire sul rigore di guida sono lì gli ha spostato la palla ero vicino alla panchina non puoi dare non dare rigore ma ripeto gli episodi li tralascerei stasera cioè voglio dire se uno non ha visto la prestazione magari ci hanno preso a pallonate invece è stato il contrario però abbiamo preso tre gol cioè mi viene da sorridere adesso pensiamo in chiave futura Crotone o meglio Avellino Crotone Pescara le prossime tre partite insomma ma noi lo sapevamo attenzione a prescindere dalla prestazione il risultato noi sappiamo che noi salvarci è difficilissimo come ho sempre detto stiamo facendo cose importanti sia sotto il profilo dei risultati sotto il profilo delle prestazioni speriamo che nel momento in cui recuperiamo non voglio dire tutti e dieci ma quattro cinque giocatori sicuramente abbiamo delle soluzioni in più sapevamo che abbiamo delle partite difficilissime però voglio dire le andiamo a giocare con grande umiltà come tra le altre cose abbiamo fatto stasera ok con grande organizzazione secondo me stasera con grandissimo palleggio soprattutto quando abbiamo cambiato sistema di gioco purtroppo il calcio se non va la palla dentro non fa i gol noi a un certo punto onestamente li abbiamo non voglio usare un termine però diciamo siamo stati un po' sfortunati ecco per quanto riguarda invece le scelte iniziali per la prima volta fuori guida con questo tandem vero e proprio lì davanti Tommassini e la Monica secondo me abbiamo fatto bene gli volevamo attaccare la profondità e volevamo prenderli alle spalle come ci siamo riusciti poi non è che esistono giocatori indispensabili in questa squadra sia ben chiaro ci sono giocatori che magari in una fase calante ed è giusto che non sono partiti dall'inizio cioè voglio dire tutto normale comunque a Capuano vanno fatti i complimenti per il lavoro che sta facendo alla guida del Taranto poi a prescindere dalla sconfitta contro la Virtus Federico un campionato come diceva proprio mister Capuano che non è poi difficile cioè non è facile raggiungere la salvezza davvero c'è un grande equilibrio tra tutte le squadre a parte le prime poi che stanno facendo un campionato a sé se togliamo le prime tre siamo tutte lì alla fine noi siamo a due punti dalla zona playoff e a due punti dalla zona playout quindi ogni partita è fondamentale questo ci deve servire perché non possiamo permetterci di sbagliare nessuna partita e adesso ci andiamo ad ascoltare invece anche le parole di Enian che è stato la protagonista di giornata per il ritorno al gol e speriamo possa tornare quanto prima anche nella formazione di partenza per far vedere tutte le sue qualità sentiamo sono molto contento per quanto accaduto anche l'anno scorso sono stato fuori parecchio tempo quest'anno in ritiro mi sono rifatto male quindi sono stato fuori parecchio tempo ancora e diciamo che questo gol è un sollievo soprattutto per me per quanto riguarda il mio punto di vista la mia situazione e soprattutto la cosa più importante per la squadra siccome viene da un momento difficile poter aiutare la squadra a portare a casa a tre punti per me è la cosa più importante viene prima del mio infortunio e tutto il resto una partita è un risultato che mette da parte tutto quello che avete vissuto nelle ultime settimane sì come ho detto prima questi tre punti per noi erano fondamentali siccome veniamo da un momento molto difficile questi tre punti fanno capire il lavoro che stiamo facendo durante la settimana nonostante la situazione critica che abbiamo passato questo risultato dimostra il lavoro che facciamo durante la settimana che è l'impegno che mettiamo tutti i giorni ecco Aynian raccontaci un po' la partita ecco la tua analisi a 360 gradi partendo anche magari dal risultato e in base a quello che è successo sul rettangolo di gioco allora gli spettatori alla fine vedono il risultato il 3-0 il Francavilla nel confronto del Taranto però se vai ad analizzare la partita chi capisce chi segue il calcio sa che comunque è stata una partita equilibrata occasioni partendo dalla nostra parte occasione della parte loro poi magari noi siamo stati più cinici nelle nostre occasioni e abbiamo portato a casa il risultato e cosa vi ha detto nello spogliatoio alla fine della partita il tecnico Calabro allora lui era più contento per la nostra felicità che per i tre punti guadagnati perché sono sono già tre settimane che il mister continua a dirci non vuole non gli frega niente dei tre punti ma vuole vederci felici nello spogliatoio è quello che è successo e per finire il gol una ripartenza in superiorità numerica allora ci siamo messi a cinque dietro ho visto l'estano venire dentro ho anticipato la mossa che avevo già capito e mi sono ritrovato la palla tra i piedi con campo aperto cercando una soluzione perché eravamo in inferiorità numerica e non trovando soluzione ho detto vado quello che succede succede ho giocato la palla dentro e non me l'aspettavo neanche me l'ho ritrovata tra i piedi e ho saltato il portiere cosa che non riesco a capacitarmi ancora adesso e ho fatto l'ho messa dentro per lei il peggio è ormai definitivamente alle spalle? è alle spalle speriamo come cantavamo nello spogliatoio il meglio deve ancora venire quindi speriamo che il meglio venga adesso forte Enian che dispensa anche pillole di saggezza su quel dribbling al portiere è fantastico è veramente fantastico però vogliamo spendere due parole anche sull'assist di Macca perché era contornato da maglie gialle ed è riuscito a servire Enian con una facilità assurda entrambi erano entrati da pochi secondi neanche minuti perché ci fu quel doppio cambio entrerano tutti e due ho fatto un passaggio da centrocampista importante non so se Federico può confermare quello che sto dicendo a smentirlo no no infatti non me l'aspettavo nemmeno io perché vedendo l'azione da dietro adesso che fa pensavo invece l'ha messo lì l'ha messo lì in porta poi è stato bravo anche lui a saltare il portiere sempre per la categoria delle domande da fare a chi c'era già l'anno scorso voglio chiederti anzi o meglio cambiamo la domanda e cioè di solito chiediamo sempre che cosa c'è di diverso rispetto allo scorso anno questa volta ti chiedo invece lo scorso anno c'erano Toscano Prezioso quei giocatori lì un pochino fumantini Ventola ecco quest'anno siete troppo bravi ragazzi invece può essere stato questo no no non penso e non si può nemmeno fare un paragone secondo me rispetto all'anno scorso perché è cambiato allenatore sono cambiati molti giocatori e secondo me non è nemmeno giusto appunto fare paragoni o pensare al passato dobbiamo dobbiamo pensare al presente e dare il meglio e anzi provare a fare meglio di quello che è stato fatto in passato ci parli un pochino anche della tua stagione fin qui dicevamo prima magari ti aspettavi di giocare un pochino di più però insomma c'è ancora due terzi di campionato ancora da giocare no se devo essere sincero è normale che dopo l'anno scorso mi aspettavo magari di una stagione diversa ecco perché all'inizio non ho sentito diciamo la fiducia della società devo essere sincero però ero anche sicuro di ritagliarmi il mio spazio come è sempre stato con il duro lavoro dando sempre il massimo sono convinto è ancora presto quindi si può fare ancora tantissimo sono convinto di poter fare di poter fare e dare ancora tanto a questa questa maglia beh il fatto comunque che tu sia partito in una partita chiave dal primo minuto comunque è un buon segnale di fiducia per il futuro certo per il futuro lo spero allora adesso ci andiamo a sentire una scheda di Alessandro Zanzico su un altro dei top dell'ultima partita vale a dire Michele Avella in occasione del derby vinto per 3 a 0 contro il Taranto Solcia Patierno ed Enian hanno rubato le luci della ribalta Cisco è stato scelto dai tifosi come il migliore in campo ed a Calabro è stato attribuito il giusto merito per l'intuizione vincente del cambio modulo guai però a lasciar passare inosservata o anche solo in secondo piano la prestazione superlativa di Michele Avella l'estremo difensore campano è stato semplicemente insuperabile in occasione del derby con almeno 5 interventi prodigiosi e degni di nota l'ex messina Ancona Casertana e Matelica ha indossato il mantello di supereroe soprattutto nel secondo tempo sotto il diluvio in condizioni meteorologiche che tendenzialmente non agevolano il mestiere del portiere Avella però questo non lo sa e le para tutte lo stesso salvando in più circostanze il parziale e permettendo ai suoi di dilagare contro un Taranto chi ha provato a violare la porta dei padroni di casa in ogni modo galvanizzato dalla curva e ben supportato dei propri compagni il portierone biancazzurro ha portato a casa il quarto clay sheet del proprio campionato una buona notizia per la Virtus una grande soddisfazione per lui che sta riuscendo nella non facile impresa di non far rimpiaggiare l'addio di un estremo difensore del calibro di Tommaso Nobile e pensare che il giovane Avella sebbene avanti già oltre 70 presenze fra i professionisti è ancora un under il classe 2000 compirà infatti 23 anni a maggio e fra i colleghi militanti nella stessa categoria e senza dubbio fra i più promettenti contro il Taranto i suoi miracolosi interventi sono stati provvidenziali ai fini del risultato ma che sia difficile superarlo non lo abbiamo scoperto di certo domenica a Grazie a tutti. 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 Minuto 82. È un Monopoli che stiamo notando dai risultati va un po' a corrente alternata che è un pochino anche l'andamento della Virtus Francavilla. Non c'è stato quel cambio con il cambio in panchina tra la terza e Pancaro quella svolta che ci si aspettavano? No, anzi sta andando peggio. La media di Pancaro è di un punto a partita. Ha lasciato la terza con la media di 1,44 quindi il Monopoli non ha svoltato, anzi ha rallentato con Pancaro. Colpa del calendario non credo, colpa del sistema di gioco neanche, colpa di una squadra che ancora non riesce a trovare l'episodio per svoltare la sua stagione. Anche perché credo che Federico possa testimoniarlo dopo quelle tre. Io vedo molto equilibrio, cioè tutti possono vincere o perdere con tutti. e credo che chi cominci nel filotto positivo poi alla fine arriverà al quarto posto perché obiettivamente quelle tre lì davanti sembrano irraggiungibili. Il Monopoli sembrava aver svoltato quando ha pareggiato contro il Monterosi, poi ha vinto la partita successiva e sembrava aver trovato anche un'identità con il 3-5-2. Poi però sta pagando anche il fatto di non aver costruito una rosa su quel sistema di gioco. Domenica contro il Francavilla il Monopoli avrà due centrali di ruolo e giocherà molto probabilmente con la difesa a tre. Quindi addirittura sono meno i centrali a disposizione di quelli che scenderanno in campo. Non si discute il valore dei calciatori, si discute però come è stata formata la squadra e credo che domani Pelliccioni possa darci risposte a tal proposito. Sì, anche perché c'è una conferenza stampa in cui il direttore sportivo ci metterà un pochino la faccia su quelle che sono state le scelte. Flavio, ma al di là poi del modulo e di tutte le cose che giustamente hai detto tu, ma ti aspettavi un Monopoli così con quei giocatori? Cioè con Simeri, con Fella, con Montini, con Manzari? Insomma, presi i singoli, il Monopoli è una delle squadre che forse poteva ambire, non dico a giocarsela con quelle tre, però a stare lì in alto, no? Con De Rizio, con Drudi, con Vettore il terzo in porta, no? Io mi aspettavo un Monopoli adesso almeno a 25 punti a questo punto della stagione. 25 punti che poi negli altri gironi sarebbero terzo, quarto posto ancora attaccato alle squadre di vertice. No, non mi aspettavo affatto un Monopoli a quota 18, così come non mi aspettavo anche un Francavilla a quota 16 a questo punto della stagione. Però è una nata veramente particolare. Cioè quelle tre hanno preso un treno che le sta portando in alto. Spero per la simpatia che nutro per mister Bivarini che il Catanzaro arrivi alla fine, perché poi veramente arrivare con così tanti punti a non vincere il campionato potrà essere un problema magari per chi arriva secondo in chiave playoff. Comunque no, con quella rosa non mi aspettavo assolutamente un Monopoli a quel punto della classifica, a questo punto della stagione. I motivi sono molteplici e sono da ricercare credo anche a monte, perché questa squadra andava in un certo senso anche mentalizzata per un campionato di alta classifica e soprattutto non andava disperso anche quel patrimonio che è stato speso all'inizio della stagione. Adesso si rischia veramente di buttare tutto, deve essere brava la società a far quadrato attorno alla squadra e la squadra a non farsi abbattere. Perché comunque i giocatori che hanno, fino all'anno scorso, giocato per la vetta della classifica, non sono abituati neanche a star lì attorno al nono decimo posto. Si potrebbe avere addirittura l'effetto contrario e quindi buttare veramente per aria quanto costruito in estate e quanto speso in estate, perché credo sia una cifra non indifferente. Tra l'altro Catanzaro secondo me è la più forte, ma visto che tu fai il tifo per Vivarini, io faccio il tifo per Alberto Colombo. L'ultima domanda di Alessandro Zanzico perché siamo quasi in chiusura. Sì, ciao Flavio, buonasera innanzitutto. Ciao Ale. Poi ti chiedo anche se ti aspetti un possibile cambio modulo, perché per la Virtus è stata una soluzione tampone in vista del derby contro il Taranto, una soluzione che poi ha premiato, un qualcosa che ha funzionato dopo un periodo in cui le cose andavano così e così. Visto che tante sono le probabilità che la Virtus scenda in campo a specchio, quindi con la difesa a tre, quante quelle che si possa riproporre, lo stesso modulo, lo stesso assetto del derby giocato contro il Taranto, se pensi che il Monopoli, se pensi che Pancaro possa aver individuato una sorta di sorpresa a tal proposito. La Virtus ha giocato a quattro il derby con il Taranto, ha giocato con il 4-3-2-1 ad Albero di Natale, giusto? Sì, sì. Ecco, io invece mi aspetto che Pancaro non cambi, nonostante tutto io credo che adatti uno tra Pinto e Falbo lì sulla sinistra a fare il braccetto a sinistra, è più difficile che adatti Viteritti a fare il braccetto a destra con Fornasie spostato dall'altra parte, anche perché il Monopoli nonostante tutto pare aver intrapreso quella strada e pare non voler tornare indietro sulla difesa a quattro, anche se con la difesa a tre abbiamo visto che Bizzotto, che non ci sarà, soffre tantissimo a fare il braccetto, che Fornasie non è proprio un fulmine di guerra, però credo che Pancaro ormai abbia intrapreso quella strada e voglia non cambiare anche per dare un segnale alla società, dovete farvi il mercato di gennaio sul 3-5-2 e quindi si continua così. Sempre, insomma, stavo per dire, nel senso, comunque dovrà pur portare risultati a casa Pancaro, no? Per arrivare al mercato di gennaio. Penso di sì, però cambiare una seconda volta credo sia andare a smentire per due volte il lavoro e le scelte fatte, quindi un doppio cambio sarebbe proprio l'ammissione del fallimento tecnico da parte della società e credo che non si vada su questa strada. Poi se i risultati non dovessero accompagnare a tal punto da richiamare la società all'attenzione per un altro esonero, lì poi tante persone devono assumersi le loro responsabilità. Insomma, speriamo di nuovo per Pancaro e per il Monopoli. Flavio, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto. Grazie a Flavio Insalata di Antenna Sud. Prima di salutarci, doverosa domanda anche a Federico Mastropietro. Che tipo di partita vi aspettate voi? Sarà un altro derby ad alta intensità? Sì, sarà una partita tostissima, già lo sappiamo. Dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare a lottare su ogni pallone. in questo momento saranno i particolari a fare differenze e noi dobbiamo essere bravi a portarli dalla nostra parte. Federico, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Tra l'altro tu hai il record di presenza da giocatore della Virtus Franca Villa, Passione Bianca Azzurra. L'anno prossimo ci aggiorniamo il contegno. Grazie Alessandro Zanzico. Grazie a te Dennis. E l'appuntamento con Passione Bianca Azzurra torna la prossima settimana. Buon proseguimento sui canali di Antenna Sud. Grazie a tutti.